questa è un'altra piazza questo è il famoso rione, il Bronx se lo chiamano qua il Bronx eppure a me mi piace, sai perché? perché sembra di stare a piazza San Marco non ci ho capito, sembra di stare a piazza San Marco a Venezia si senti quando cammini tra i piccioni volano via se voi scendete qua lo vedi? io vado davanti e quelli scappano e adesso ci li vedi di qua tu ce l'hai da com'è? c'è la roba che stai prendendo? stai prendendo la roba? non c'è la chiamata l'eroine 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 l'eroine